Il spettacolo del guido Gina Ballà debutterà la prossima settimana e le date saranno lunedì 19, martedì 20, giovedì 22 e lunedì 26 marzo. I biglietti emessi, comprati o prenotati per le precedenti date non sono assolutamente persi e non devono essere cambiati, semplicemente le date vengono traslate di una settimana. Quindi i biglietti emessi per lunedì 12 sono validi per lunedì 19, i biglietti di martedì 13 sono validi per martedì 20, i biglietti di mercoledì 14 sono validi per giovedì 22 e i biglietti del 19 marzo sono validi per lunedì 26 marzo. Ovviamente chi non potesse essere presente e partecipare in queste nuove date, con la nuova data che è stata loro assegnata, ci si può presentare comunque al botteghino per un cambio dei biglietti o eventualmente anche per il rimborso dei biglietti. Il botteghino è aperto tutti i giorni e con i seguenti orari lunedì, martedì e mercoledì, questi tre giorni che dovevano essere di spettacolo, dalle 16 alle 21, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19, durante il weekend con il doppio orario mattina e pomeriggio, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. Per tutte le informazioni poi potete rivolgervi al numero di telefono del Guitto che è su tutto il materiale promozionale e noi vi aspettiamo numerosi per la prossima settimana, venite a ballare con noi.